Nessuna notizia da Stark? Ancora no. Stiamo controllando tutti i satelliti su entrambi gli emisferi, ma niente. Di che si tratta? Venivoli non identificati su Wakanda. Stessa firma energetica di New York. Dieci volte più grande. Dì a Klein che li incontrerò... Stanno bene? Non c'è nessuno. Chiamala a centrale. Codice rosso. Nick? El? Oh no. Figlio. No. 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 Grazie a tutti.